Un punto di vista più elevato. Scuola del Cerchio Firenze 77. Attraverso Roberto Setti, 1 luglio 1970, a cura di VB. Dali, desideriamo ricordarvi che qualche anno fa dei vostri, anche se è strano appare oggi parlare di tempo, quando sappiamo quanto esso abbia un valore relativo, proprio da qua vi preannunciamo che vi avremmo portati a conoscere le cose da un altro punto di vista. Un punto di vista più elevato, più desueto per voi. Ebbene, perché voi riusciste a entrare in queste nuove verità, a cogliere il senso di questi nuovi insegnamenti, è stato necessario un po' del vostro tempo. A poco a poco, chi un poco più avanti o un poco in ritardo e alla retroguardia lentamente, vi state impossessando di questi concetti, di queste verità. Quanto queste siano state utili, non sta ora il dirlo. Non si può dare un bilancio della verità in così brevi attimi di vita. La prima cosa importante, il primo effetto importante della verità è la sua proclamazione. Avvenga essa nell'intimo della coscienza individuale oppure tramite le parole e il suono della voce. Il fatto stesso che una creatura o più creature la proclamino, la comprendano, la facciano propria è un fatto, direi, successivo all'enunciazione della verità. Tutto, il tutto è la realtà e attorno a noi è in noi. Ma di questo tutto non siamo consapevoli, non ne abbiamo coscienza. Ora, quando un frammento di questo tutto è visto, posto a fuoco, racchiuso negli angusti limiti di una enunciazione di verità, è già un fatto di enorme importanza, perché questo significa porre questa idea nella catena dei pensieri umani. Significa gettare un seme nel terreno delle umane concezioni. Questo seme darà i suoi frutti indubbiamente. Primo fatto importante è la proclamazione di questa verità, la conoscenza. Quindi per l'individuo l'assimilazione, porre l'attenzione, conoscere, comprendere. Ecco, il porre l'attenzione è il primo atto ed è importantissimo, quanto il conoscere e il comprendere. Il porre l'attenzione, ripeto, significa porre nella catena degli umani pensieri, delle umane possibilità di comprendere, una nuova verità, un nuovo frammento della realtà. Noi figli siamo in questa fase del porre attenzione a questi nuovi concetti. Qualcuno vi ha posto l'attenzione, qualcuno di voi, qualche altro, li ha compresi. Di poi sarà l'assimilazione. Ma non chiediamo tanto, perché sappiamo che sarebbe chiedere l'impossibile. Ed ecco, vedrete figli, che se voi vi ponete l'attenzione, a poco a poco, queste verità entreranno nella catena dei pensieri umani. Si metteranno in movimento e da altri saranno colte. In che modo? In innumerevoli modi attraverso ai quali la verità si comunica fra gli individui. Attraverso a modi telepatici, a modi fortuiti. Perché, vedete, non servono i libri, non serve che la verità, certe verità, siano scritte se esse non hanno negli uomini una qualche radice di contatto. Questi libri possono cadere sotto l'attenzione degli uomini, ma se non c'è nel loro intimo questa radice, figli cari, essi non la colgono, essi la passano inosservata. Ma quando questa radice è in loro, giunta attraverso a parole o a pensieri telepatici, ecco che la colgono subito e la sottopongono a una prima meditazione. Voi direte, ma noi così pochi, così sperduti nell'oceano dell'umanità, noi che siamo poche unità in confronto ai miliardi di altre creature viventi, che cosa rappresentiamo? Tanto, figli, voi rappresentate quel tanto necessario affinché queste verità trovino un primo terreno favorevole. Ecco dunque, figli cari, che meditandole, facendole vostre, voi ponete in essere un comandamento, voi contribuite ad attuare il destino della verità, che è quello di correre da un uomo all'altro, superare i limiti della separatività, per congiungere tutti i centri di sensibilità o di coscienza e di espressione, in un ideale catena. Noi figli abbiamo dovuto dirvi questi principi nuovi, anche per altra ragione, perché il nostro insegnamento non poteva rimanere privo della sua parte più reale, più vera, più importante, e più, per così dire, originale, autentica, mai rivelata pubblicamente. Solo retaggio di profonde, isolate, meditazioni individuali. Non potevamo lasciare incompleto il quadro della verità. E allora, direte voi, ora che vi abbiamo accennato a questo nuovo mondo, questo piano ulteriore, fino ad ora sconosciuto, ora che sappiamo queste cose, che cosa ancora ci resta da conoscere? che non sia ripetizione, che non sia arricchimento di particolari, che non sia cronaca di fatterelli? Con questo interrogativo noi vi salutiamo in questo ciclo di riunioni, invitandovi ancora una volta a meditare, a riflettere su tutto, a far sì che ciascuno di voi comprenda gli argomenti, capisca queste nuove verità. se vi sono delle incertezze in taluno di voi, cercate di chiarirle reciprocamente. Pochi fra voi hanno compreso i concetti, li hanno colti, non sono in errore, hanno inteso esattamente quello che volevamo dire e abbiamo detto. anche se è logico che la poca dimestichezza con questo nuovo modo di correre nel tempo può trarre a qualche incertezza, a qualche passo sbagliato, a qualche momentaneo errore. Non pretendiamo che abbiate compreso tutto assieme, ma che abbiate afferrato i principi fondamentali. L'ordine è quando si comprende come nulla in effetti trascorra, ma tutto è. Le mie parole voi che le udite, i nostri sentimenti, che in un primo momento possono sembrare lontani gli uni dagli altri, conoscendo che non sono contemporanei, sono invece lì da sempre, da sempre e per sempre. noi esistiamo nel tutto e per sempre, nulla trascorre o è perduto, ma basta che l'uomo riesca a trovare con la verità quella luce che lo illumini nell'intimo suo, nell'introspezione lenta, sicura, per giungere più profondamente nel suo essere fino alla sua coscienza ed ecco che cade il velo di Maya dell'illusione. ecco che cadono quelle paratie, quelle false luci che fanno credere a quest'uomo di trascorrere, di passare, di finire. Ecco che nella sua essenza interiore egli ritrova la contemporaneità del tutto, l'unione con tutti i suoi simili, l'unione con l'assoluto, con Dio. e la vita direte voi deve essere dunque lasciata, abbandonata, perdere di significato nella visione di questo futuro così diverso e nello stesso tempo così allettante e così carico di cose desiderate? No, figli! Attraverso la vita si giunge a questa introspezione è attraverso la vita che ci si fa strada nell'intimo nostro, che ci si fa strada nel mondo, che si arriva alla nostra coscienza. Dal rumore assordante dell'esterno al silenzio rivelatore dell'interno, niente può sostituirsi alla vita. È come un semplice paragone, uno studente che per quanto bravo e volenteroso lasciata la scuola conosca tanta teoria ma una semplice dimenticanza o il non dare importanza ad un particolare ed ecco che la sua conosciuta teoria viene travolta da ciò che l'esperienza vissuta poteva salvaguardare. Così è la vita. L'uomo potrebbe meditare queste verità o tutta la verità quanto volesse ma senza la vita senza l'incarnazione non giungerebbe mai a trasformare se stesso. Così noi vi diciamo queste verità e nello stesso tempo vi diciamo vivete la vostra vita liberamente spontaneamente. Questo è l'insegnamento che vi diamo prima di salutarvi. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.